Domenica al Parco Commerciale L'Annunziata, con Virtual 3D, arriva Studio 54 Network, arriva il Music Tour, con Virtual 3D, un intero pomeriggio per vivere tutte le emozioni del 5D. Vi aspettiamo per un intero pomeriggio di musica e gadget, e per la prima volta nel Sud Italia, di effetti speciali a 5 dimensioni. Appuntamento Domenica, dalle 16, Parco Commerciale L'Annunziata, uscita A3, Gioia Tauro, su internet virtual3d.it